ben trovati amici di le fonti tv eccoci con il nostro fast finance il nostro nuovo format dedicato alla formazione informazione a piccole dosi uso questa espressione in una manciata di minuti abbiamo iniziato un po questo processo le fonti tv per cui piano piano vogliamo cercare sempre più di informare di formare su concetti della finanza però in modo molto semplice naturalmente e quantomeno dando le basi di concetti finanziari che possono tornare però utili tutti i giorni non solo per essere esperti di economia e finanza ma anche per muoversi proprio nell'economia quotidiana e allora il focus è molto orientato alle possibilità di investimento ce ne sono tantissime chiaramente quando si parla di investimento occorre conoscere bene gli strumenti a disposizione conoscere bene la materia intorno alla quale ci si muove proprio perché bisogna andare mirati chiaramente noi qui sulle fonti tv anche attraverso le voci dei nostri ospiti vediamo solo alcuni riferimenti per comprendere quali strumenti si possono avere a disposizione poi per andare oltre bisogna come sempre questo è un consiglio che vi do io ma insomma che vi darebbe chiunque quello di rivolgersi a persone che ne esame quindi a persone esperte del settore oggi il focus di fast finance sono i certificates come leggetti in sovrimpressione e per parlarvene mi faccio aiutare ho chiesto l'aiuto di riccardo falcolini riccardo bentrovato specialista di certificati per unicredit ben trovata manuela ben trovata a tutti gli aspettatori intanto diamo subito la definizione di certificates partiamo da qui sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati negoziati sul mercato sedex che replicano con o senza effetto leva l'andamento dell'attività sottostante questa è proprio la definizione basica però riccardo insieme a te cominciamo a fare lo step ulteriore ad andare nello step successivo e definiamo le caratteristiche dei certificates assolutamente allora tanto come detto tu giustamente sono derivati cartolarizzati la caratteristica principale però a differenza degli ulteriori derivati questi sono derivati quotati quindi listati sui mercati euro tlx o sedex di borsa italiana e sono negoziati tutti i giorni dalle 9 alle 17 30 sull'euro tlx e dalle 9 05 alle 17 30 sul mercato sedex quindi diciamo un ulteriore caratteristico un ulteriore elemento positivo dei certificate rispetto a quei derivati over the counter che quindi hanno una rischiosità implicita di essere magari un po meno liquidi rispetto ai prodotti quotati sono scritti su vari sottostanti che possono essere azioni indici materie prime tassi di cambio tassi di interesse quindi abbiamo una pluralità una vastità di sottostanti sono soggetti a una tassazione del 26 per cento così come appunto le l'aliquota che viene applicata su gli investimenti azionari quindi in tutto e per tutto se vogliamo dirlo in modo semplice vengono negoziati vengono trattati come un'azione o un bond in termini negoziazione ma sono un derivato cartolarizzato quindi scritto su un sottostante e quindi il valore appunto del certificate dipende dall'andamento del valore del sottostante su cui è scritto assolutamente peraltro abbiamo un bello schema adesso dalla regia lo faremo vedere che indica proprio tutti questi punti che riccardo falcolini ci stava sottolineando e possiamo andare anche a vedere ecco cosa sono dove sono negoziati payoff asimmetrico e strategico fiscalmente efficiente adesso poi faccio spiegare naturalmente a te anche i rischi perché poi quando si parla di strumenti di investimento bisogna mettere sul tavolo sia i pro sia i contro e naturalmente insomma credo che tu mi possa insegnare ci posso insegnare riccardo quando si sceglie uno strumento di investimento è chiaro che c'è sempre una dose di rischio chiaramente la prima cosa da fare è decidere quanto rischio si vuole mettere nell'investimento insomma è un processo che va a doppio senso assolutamente il nostro consiglio è sempre quello di non farsi ingolosire troppo dai rendimenti elevati ma bisogna sempre ponderare bene quello che rapporto rischio rendimento quindi sempre valutare i rischi che sono connessi ad un investimento ad uno strumento finanziario a un mercato a un sottostante quindi prima e ricordiamo a tutti gli amici sempre prima di intraprendere o di entrare in una posizione valutare esattamente quelli che sono i rischi che sono connessi ad un determinato strumento piuttosto che a un certo investimento d'accordo allora i rischi principali li vediamo riassunti qui quali sono visto che parlavamo proprio di rischio esatto allora intanto così come vediamo elencato non danno diritto ai dividendi distribuiti dal sottostante quindi a differenza noi in precedenza abbiamo parlato della negoziabilità simile a quella di un di un'azione a differenza dell'azione non pagano il dividendo quindi non distribuiscono un dividendo ma per alcune tipologie di certificati verrà corrisposto un coupon a determinate cadenze prefissate sono soggetti a rischio di emittente e poi in essenza di protezione la perdita massima è pari al capitale investito in quanto fondamentalmente sono strumenti rischiosi e come tali è possibile ovviamente perdere anche l'intero capitale investito sono strumenti però che non permettono di perdere oltre il capitale investito quindi la perdita massima è legata a quello che è il vostro investimento insomma in termini proprio pratici se io decido di mettere 100 euro adesso faccio un esempio molto a caso posso al massimo perdere i 100 euro come investito corretto questo corretto è un esempio calzante perché la tua cifra diciamo detta così a caso in realtà permette di capire è possibile investire utilizzare i certificati anche con un investimento minimo di 100 euro o di pochi di pochissimi euro quindi altra cosa da ricordare da tenere a mente quando parliamo di certifiche di certificati è che sono un po rivolti a tutti insomma non è necessario avere a disposizione un capitale troppo grande assolutamente sì ti confermo che sono strumenti rivolti a tutti dal pubblico retail fino agli asset manager fino alla clientela istituzionale ottimo allora poi andremo a vedere anche le varie tipologie perché chiaramente collegato anche al fattore di rischio di cui avevo già accennato andremo a capire anche quale tipologie sono rivolte a un pubblico che vuole veramente rischiare poco che è giusto ed è lecito oppure quali categorie e tipologie si rivolgono a persone che invece vogliono usare di più giusto anche su questo va fatta distinzione assolutamente e allora se voi diamo una veloce view di quello che il rapporto rischio rendimento è equiparando appunto il certificato all'investimento di un bond piuttosto che all'investimento in equiti nella nostra slide vediamo che il certificato si pone al centro a metà un po' tra un investimento in un bond e un investimento in equiti il bond come ben sappiamo è un investimento meno rischioso tra le sue caratteristiche principali e meno rischioso da un minor rendimento rispetto potenziale rispetto all'investimento in equiti ma in compenso da una maggior protezione d'altro canto invece l'equiti cosa fa è un investimento più rischioso tale per cui ha un maggior rischio equivale un maggior rendimento e di conseguenza una minor protezione il certificato si pone esattamente in mezzo in quanto presenta una caratteristica ibrida tra quello che è appunto l'investimento in equiti e quello che è l'investimento in bond e qui si vede chiaramente appunto si posiziona al centro come sfruttare la volatilità perché poi un'altra parola chiave quando si parla di investimenti e di posizionamento sul mercato attraverso i vari strumenti adesso io sto andando in questo modo poi riccardo ovviamente guidami tu perché io stessa e io per prima attraverso queste nostre come dire nozioni in breve tempo cerco di aggiungere dei tasselli alla formazione all'informazione che è sempre utile appunto dicevo volatilità è una parola che viene usata sempre quando si parla di mercati e di posizionamento sui mercati quanto c'entra con i certificati come sfruttare questa volatilità c'entra molto la volatilità in quanto soprattutto permette agli strutturatori di creare dei payoff asimmetrici nella nostra slide vedremo a breve la struttura di uno dei prodotti che analizzeremo successivamente che è un bonus cap con quelli che sono le aree in cui l'investimento in un certificate presenta una insomma una situazione migliorativa rispetto all'investimento nel sottostante e le aree invece peggiorative ecco lo stiamo vedendo infatti quindi ribadiamo quello che vediamo nella slide ricca ribadiamo quello che vediamo nella slide allora questa è la struttura di un bonus cap di un certificato che viene denominato bonus cap il bonus cap e lo analizzeremo successivamente è un prodotto che a scadenza andrà a corrispondere all'investitore un bonus nel caso in cui durante tutta la vita dell'investimento non sia raggiunta la barriera nel nostro esempio abbiamo ipotizzato una barriera al 70 per cento che equivale a quest'area qui dove inizia il nostro color rosso ed un cap al 130 per cento che inizia insomma in quest'area qui cosa diamo un significato alla nostra slide allora fin quando il sottostante quindi che l'azione piuttosto che l'indice si muove tra quello che è il valore del 70 per cento e il 130 per cento del sottostante allora in quel caso sarà più conveniente investire nel certificato piuttosto che investire nel sottostante se ci aspettiamo perché perché se dovesse mantenersi all'interno di questo range ovviamente a scadenza il certificato ci corrisponderà un extra rendimento un bonus il cosiddetto bonus pari al 130 per cento se ci aspettassimo però un exploit quindi un forte rialzo dell'azione o dell'attività quindi del nostro sottostante allora in questo caso perderemmo una parte del guadagno potenziale che avremmo generato investendo nel sottostante stesso quindi vedete una situazione peggiorativa perché andremo a guadagnare in parte meno altra situazione peggiorativa nel caso in cui sia rotta la barriera nel caso in cui viene rotta la barriera il certificato diventa un replicante dell'azione o dell'attività stessa a una scadenza definita giunti alla scadenza verrà rimborsato linearmente secondo l'andamento del sottostante perché peggiorativa perché in un mercato discendente magari il cliente può decidere anche di tenere l'asset in perdita in portafoglio con il certificato una volta giunto a scadenza diciamo si fa più o meno il conteggio di come è andata la situazione come è andato l'investimento e in quel caso c'è il rimborso che come dicevamo nella situazione precedente può in casi estremi comportare anche la perdita di tutto il capitale investito allora io direi Riccardo servendoci ancora delle slide abbiamo già accennato alle tipologie diverse e alle possibilità diverse che abbiamo sui certificati scorriamo le quelle principali magari e qui è la cosa fondamentale segnalando quelle che si rivolgono a persone che vogliono rischiare meno quindi che cercano nel certificato una protezione o invece coloro che vogliono rischiare di più che quindi dicono io investo un bel gruzzoletto e anche insomma mi delimito la mia zona di rischio anche se perdo quella parte lì va bene lo stesso insomma quelli che possono usare un po di più assolutamente allora intanto iniziamo con le prime la tipologia di prodotti un po più classici che sono meno rischiosi e sono i cosiddetti investment certificate abbiamo una bella carrellata di prodotti di investimento partiamo con i primi già citati bonus cap bonus cap offre un rendimento a scadenza un premio bonus solo a scadenza e prevede una barriera la barriera non l'abbiamo citato in precedenza a questo elemento che la barriera la barriera indica la soglia chiamiamo la soglia o lo spartiacque fin quando quindi delimita la zona in cui il nostro capitale è ancora protetto o meno giunta raggiunta la barriera il nostro capitale non è più protetto quindi si perde quella che la protezione del capitale in gergo tecnico si chiama trigger noi lo chiamiamo soglia per essere un po più diciamo togliamo un po quelle parole inglesi che a volte sono un po difficili da magari anche da ricordare esatto allora quindi caratteristiche bonus cap abbiamo premio a scadenza e barriera osservata in continuo quindi durante tutta la giornata di negoziazione top bonus funziona come il bonus cap identico dal punto di vista del bonus ma la barriera viene osservata solo a scadenza in questo caso tra i due è più rischioso un bonus cap perché la barriera viene osservata in continuo passiamo step successivo altra categoria di prodotto cash collect il cash collect è assimilabile in parte a un bond perché perché paga dei premi ricorrenti premi ricorrenti la cui appunto ricorrenza viene stabilita dall'emittente in fase di strutturazione può essere mensile semestrale trimestrale o anche annuale dipende un po dal 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 prodotto ovviamente più il sottostante rischioso più i premi saranno alti ovviamente il cosiddetto premio al rischio ok chiarissimo hanno una barriera osservata solo a scadenza ed è possibile il rimborso anticipato quindi non necessariamente non necessariamente il prodotto giungerà a scadenza altra caratteristica o altro prodotto sono gli express gli express certificate pagano un bonus solo a scadenza quindi è un po una sorta di ibrido tra i bonus cap e i cash collect pagano un bonus solo a scadenza hanno una barriera a scadenza ed è possibile appunto il rimborso anticipato una sorta di ibrido tra quelli che sono i bonus cap e i cash collect beh anche la possibile scadenza anticipata riccardo ti faccio questa domanda magari ho compreso male ma serve appunto capire aiuta come dire una persona a essere più tranquilla nel momento in cui si decide di affidarsi a un certificate perché non si tiene investito totalmente il capitale che si vuole appunto investire assolutamente sì diciamo è un ulteriore elemento che permette insomma di di rendere un po più safe il prodotto d'accordo più sicuro esatto più safe sì e poi ovviamente le caratteristiche le tipologie sono varie magari dipende un po da quello che l'orizzonte temporale top bonus bonus cap per investimenti di medio breve medio periodo cash collect per investimenti di lungo periodo quindi al di là dell'anno anno e mezzo d'accordo invece bonus cap e top bonus da qualche mese quindi hanno una durata massima di un anno e mezzo diciamo invece i cash collect arrivano anche a maturity di tre anni quattro anni cinque anni dipende dalle varie tipologie di prodotti ecco una espressione una parola che si sente spesso quando si parla di certificati è l'effetto compounding ci vuoi spiegare di cosa si tratta riccardo certo l'effetto compounding è un effetto però che caratterizza gli strumenti a leva una particolare tipologia di strumenti a leva che sono gli strumenti a a leva fissa lo strutturatore o comunque lo strumento per mantenere quella che è la leva fissa deve reinvestire di giorno in giorno l'interesse quindi si verifica il fenomeno dell'interesse composto quindi l'effetto compounding appunto che l'effetto dell'interesse composto va a inficiare su quella che è la performance del certificato soprattutto dei certificati a leva fissa e questo va a inficiare in modo anche diciamo parzialmente negativo nel momento in cui il trend del sottostante non è ben delineato magari ci sono giorni in cui l'andamento del sottostante è positivo il giorno in cui è negativo quindi in quel caso l'interesse dell'effetto composto va a inficiare in modo negativo e soprattutto in questo ambito direi che proprio per ovviare a quello che è il fenomeno dell'interesse composto Manuela ci sono due tipologie di strumenti a leva che sono i benchmark a leva fissa quindi sono quei certificati che mantengono a leva fissa e costante durante tutto l'investimento e invece ci sono i prodotti a leva variabile come i turbo open end che non risentono di questo effetto compounding in quanto il prezzo del turbo viene ricalcolato giornalmente sulla base del prezzo del sottostante e sulla base dello strike D'accordo Riccardo facciamo una cosa diciamo solo proprio a livello di elenco le tipologie diverse di strumenti che ci sono proprio i nomi poi direi che magari questa sarà l'occasione attraverso il nostro fast finance di rivederci e di andare a vedere strumento per strumento capendo quali sono le caratteristiche se sei d'accordo però diamo come dire una view generale a chi ci segue rispetto a ciò che si può trovare sul mercato Allora, view generale partiamo dai certificati di investimento quindi riprendiamo in parte quello che abbiamo detto in precedenza certificati di investimento abbiamo bonus cap e top bonus per chi ha una view rialzista quindi view laterale o rialzista sul mercato reverse bonus cap per chi ha una view laterale o ribassista del sottostante questi tre elementi pagano un bonus a scadenza poi abbiamo i cash collect che andranno a corrispondere a un rendimento periodico un po' come se fosse un bond quindi la cedola di un bond gli express certificate che corrisponderanno invece un rendimento solo a scadenza quindi un bonus solo a scadenza e hanno una barriera osservata appunto solo a scadenza quindi completato l'elenco dei prodotti di investimento andiamo su quelli da trading trading anche qui bisogna fare distinzione cosa che sempre bisogna fare investimento e trading gli obiettivi sono diversi gli obiettivi sono diversi in quanto le caratteristiche dei prodotti sono diversi quindi ad un obiettivo diverso corrisponde un prodotto diverso come prodotti di trading abbiamo benchmark alleva fissa turbo open end e poi i classici cover and warrant che sono dei prodotti appunto similari all'opzione quindi rappresentano un po' quello che è un'opzione listata quindi quotata sempre sul mercato che danno il diritto di acquistare o vendere ad una determinata data prefissata a condizioni prefissate un certo sottostante che può essere appunto dicevamo azione indice tasso di cambio materia prima certificates cosa sono e come funzionano questo il nostro focus di fast finance di questa puntata naturalmente ce ne saranno altre grazie intanto a riccardo falcolini per aver dato un primo imprinting sul mondo dei certificati che molti conoscono ma magari molti vogliono approfondire grazie a voi per la possibilità e grazie a tutti per averci ascoltato grazie a tutti voi naturalmente per averci seguiti restate sulle fonti tv